C'è un cestito orecchio? No. C'è un cestito orecchio? C'è un cestito orecchio? Non c'è anche un cestito orecchio? Avrà paura? Povero! Non c'è un cestito orecchio? No. Non c'è un cestito? il nome scritto anteriore a destra anteriore a sinistra i box ferrari i box ferrari i box ferrari i box ferrari Grazie a tutti.